Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video a Street Fishing So che vi manca un tempo, per questo ragazzi per questo video vi chiedo di superare i 100 like Dato che so che vi piacciono tanto e apprezzate i video così Cavalini è reale a Street Fishing Dunque mi raccomando ragazzi lasciate like, condividete il video, iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti Per non perdervi nuovi video Altra piccola cosa ragazzi, mi raccomando passate qua sotto in descrizione che c'è il link al mio Twitch Che ultimamente ho ripreso da streamare che finalmente mi sono fatto il PC nuovo Arriverà un video anche su quello extra così giusto per Dato che mi avete chiesto E mi raccomando passate che la sera in genere vado in live su Twitch a cazzeggino ignorantissimi Dunque non perdo altro tempo e via con il video Grazie a tutti Preso, Tano Tano E' uno Shed da 7 cm Natural Vediamo un po' Porco Dio Preso Uh bello, bello Bel pesce Mi ha mangiato due volte Bel pesce, Ciano Bello, bello Ciano Eccolo qua Eccolo qua Eh no Guarda che questo è un trontello E' un bel pesce Preso Bello, bello 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 Bel pesce Bel pesce Wow Optical non delude Boom baby Pesce sui 30 Nienta Guardate qua Che bel pesce A drop shot Vai No No Ho solo giarche Suspendimi E secondo te se il pesce mangia sul veloce cosa devo mettere? Sì Si è un crank Poi troppo sotto Sotto questo e questo Il gergo della raffa Bello Bello Questo è un pesce da 30 Bello Bello No, 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 no... preso, preso, bello, bello, bello bello ok 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 is there ok ok on ok 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 e uno via realino bello 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 eccolo qua ecco c'è anche già sbappato urco urco che è bello guardate 30 cm di pesce andate qua vai via 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 Grazie.